E per conoscere il gelso bianco, il gelso bianco c'ha le foglie. Quando? In autunno. In autunno. E il gelso nero? Bimbi, il gelso nero le ha le foglie? No. Bianco sì. Bianco sì. Questo qua che cos'è? Il gelso. Questo è bianco o nero questo qui senza foglie? Nero. Nero. E questo con le foglie? Bianco. Questo con le foglie è bianco. Siamo esperti di gelso? Sì. No? E Isha non siamo esperti di gelso? Sì. Chi è esperto di gelso? Alzi la mano.